Siamo tornati in questo nuovissimo video, siamo di nuovo qui su Critical Ops, è una nuova serie, vi ripeto, il secondo episodio. Eccoci qui che stiamo entrando nel lobby. Ok, dobbiamo fare un'eliminazione con un certo fucile. Fede, si senti ancora? Non proprio, ma... Sta cambiando l'aria? Guarda di sì. Ecco qui, abbiamo selezionato l'Aug. Scusate un attimo di nuovo mia madre. Scusate un attimo di nuovo. Ma io lo sanno, ma che cavolo è? Facci qui che c'è un attimo di nuovo. Scusate un attimo di nuovo. Ah vabbè, ci hanno sceso, però l'abbiamo ancora più togliata. Eh vabbè. Tra l'altro, non so se l'avete visto, ma me l'ha segnato di nuovo sul monitor. Cioè non me l'ha segnato, scusate. Eccolo. E' un attimo di nuovo. E' un attimo di nuovo. Ok. Ok. E' un attimo di nuovo. E' un attimo di nuovo. Eh vabbè. Non ho premuto bene il tasto. Non dite che mi sto inventando le scuse. ah mi va a dover ricaricare stiamo facendo un po la missione madonna allora ma bene no no ma dove tiro non lo so ne ha senso sparo vabbè comunque su questo gioco non si può correre si cammina soltanto non no vabbè buo no 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 no